Musica E ciao a tutti ragazzi sono Alcarad e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi andremo a fare Continuiamo la serie che fine hanno fatto E quest'oggi andremo a fare L'ultimo Real Madrid che vinse la Champions League Stagione 2017-2018 Però oltre alla Champions hanno fatto anche altre cose Tipo sono arrivati terzi in campionato Hanno vinto la Coppa dei Re Cioè no In Coppa dei Re si sono fermati ai quarti Però contro il Legan Leganes non ho mai capito la pronuncia Però è passato per il gol in trasferta Perché hanno andato e il Real vinse per 0-1 In trasferta in casa del Legan E poi Legan si impose al Bernabeu per 1-2 Ha vinto appunto la Champions Ha vinto il Mondiale per Club in finale contro l'Alain In Supercoppa Spagnola Ha battuto il Barcellona in finale per un totale di 5-1 Perché la Supercoppa è andata e ritorno Ha andato e vinse per 2-0 al Bernabeu E Alcamo vinse per 1-3 E in Supercoppa UEFA Ha vinto contro il Manchester United per 2-1 L'allenatore di quel periodo era Zinedine Zidane Adesso aveva 45 anni Adesso ne ha 49 Ed è attualmente svincolato Si sono fatte tante voci su Zidane Tipo come allenatore della Juve L'allenatore nazionale francese Dopo l'uscita dell'Europeo O se no anche come allenatore del Paris Saint Germain Poi c'era Navas Che aveva 30 anni Adesso ne ha 34 E ora gioca al PSG Si alterna con Donna Roma Poi c'era Keiko Casiglia Che aveva 30 anni Adesso ne ha 34 E gioca all'Elch Poi Luca Zidane Che mi sembra che dovrebbe essere il figlio Non lo so Aveva 19 anni Adesso ne ha 23 E giocava E gioca attualmente al Raio Valenzano Poi c'era Juan Ramos Aveva 17 anni Adesso ne ha 21 E gioca a Real Aviles In seconda divisione No in Serie B In seconda divisione mi pare Che sia Poi C'era Rafael Varane Che aveva 24 anni Adesso ne ha 28 E ora gioca appunto al Manchester United C'era Sergio Ramos Capitano 31 anni Adesso ne ha 35 E gioca al PSG Gioca Quando ti dico Gioca Sta sempre infortunato Nacho Fernandez Teo Hernandez 19 anni Adesso ne ha 23 Gioca al Milan Ed è uno dei più forti al mondo Quezanda Quezanda Aveva 21 anni Adesso ne ha 25 Lucas Vasquez 26 anni 30 anni Adesso è ancora lì A Madrid Hakimi Anche lui Uno dei migliori al mondo 18 anni 22 Ed è Al Paris Saint Germain Tejero 20 anni 24 Adesso All'Eibar Casimiro 25 29 Ed è ancora lì A Madrid Toni Kroos 27 31 Ed è ancora lì Al Madrid Kovacic 23 27 Ed è al Chelsea Modric 31 35 Ed è lì A Madrid Llorente 22 26 È ancora Madrid Ma sponda Atletico Sebalios 20 anni 24 Ed è ancora lì A Madrid Sejuane 20 anni 24 E gioca All'Huesca Sempre in Spagna Isco 25 29 Ed è ancora lì A Madrid Rodriguez 19 23 E gioca Al Getafe Non è Ames Rodriguez Ma un altro Gareth Bale 27 31 Ed è ancora lì A Madrid Dopo il prestito Al Tottenham Asensio 21 25 Ed è ancora lì A Madrid Franciu 19 23 Ed è All'Eibar Cere 7 32 36 Dopo Aver giocato Alla Juve L'anno dopo Per tre anni Ora È al Manchester United E ha 36 anni Benzema 29 33 Ed è ancora lì A Madrid Borg Borg Maior Al 20 24 Dopo la parentesi Alla Roma È al Getafe E C Gonzales 19 23 Ed è Al Real Valadour Il Lead Vediamo La formazione Che era Navas Marcello Ramos Varane Carval Casimiro Cross Modric Bale Benzema Ronaldo Era un 4 33 E che di ragazzi Per questo è tutto Lasciate like Iscrivetevi Anche se io su fifa Quando usavo real Usavo sempre il 4 2 3 1 Perché Mi trovo meglio Che di ragazzi Per questo è tutto Lasciate like Iscrivetevi Attivate la campanella E noi ci vediamo Come sempre Con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao